Questa è enorme, è molto come grande Ciao ragazze, ciao ragazzi Che carità dolce non si amara la mia sorellina Diretta dal gabinetto D'accesso del sushi Delle stranze giapponese Oyoukeni Stasera vi faremo un sequel Della sushi challenge Del video che vedeste Oyoukeni Si stasera vi faremo vedere come si può mangiare Tanto 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 Fino a scoppiare Fino a se ti stimare Noi siamo bravissimi Qui in bagno dopo E faremo vedere il continuo Vomitare Staremo neanche, ameremo anche il 118 Nel caso Mangeremo tipo 250 roll di sushi Un sacco di portale Certo ce la dobbiamo fare ragazzo Ce la faremo? Ma stiladà Stiladà Uai tanti Sbottoniamo Il pantalone Sbottoniamo già da Sbottoniamo su una maglia Tutto cosa Andiamo Nudolsss 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 La verdure La verdure E' pronta per questa sfida? Yeah Con pochi pochi Sbittia challenge Sushi challenge Con la porchetta Sushi challenge con la porchetta No vabbè E' pieno uso Finito Finito tu Mangiate tutto Sotto con il pochi Sotto con il pochi Sushi set Guardate che buono Tutto mio Senti c'è la patina Senti Mangiate tutto Mangiate tutto Mangiate tutto Tutto Questo è enorme Guarda come grande Sotto con la porchetta Salve di salve Grazie Sotto con la porchetta Pronti per questa nuova città? Aspetta, mi fa la foco! Vai, mangia tutto tutto. Questa che numero di ordinazione è? Dove. La quarta. Dove terzi. Dai, dobbiamo fare ancora le quattro. Dai, dai, forza. Io non coltello. Io coltello, perché te coltello? Dai, ma già che tu mangi con la forchetta. Uno, due, tre, via. Non è buono? Dai, subito, mangia subito un altro. Forza, questa è una scialle. Devi mangiare tutto a purezza. Dai. Ma te lo voglio. Dai, vai. Eh, lo spasca pure, hai, penso. Guarda, è tutto il pezzo. Ti voglio fare la venidenza, eh? Che devi dire? Per te. Ma non ci mangi col te. Non è. Si continua con le ordinazioni, con tanta salsa. Dai, tanta salsa piccante per complicare la scienza. Guarda che non ho mancettino della venidenza, eh? Ma sei russa, 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 russa. Guarda che non ho mancettino della venidenza, eh? Russa, 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 russa. Ma quanto venite con l'uno? Troppo piccante. Sembriacate. Quinta ordinazione. E allora, eh, non ce la fai ancora o sto scoppiando? Giusto mangi. Allora, eh, non ce la fai ancora o sto scoppiando? Beh, eh, fammi dire come mangi tutto, ma non ti credo. Se è indecita, lei se è sempre più brussa, povera, già dopo pochino. E' un po' molto buono, ma non ce la farò. Fino all'ultimo mangeremo tutto. Devo vincere. Mamma mia. Ancora a mangiare. Ancora. Mamma mia, hai battuto tutti. Ho battuto tutti. Stavolta hai vinto, io ho perso, sto scoppiando. Io non l'ho presa l'ultima ordinazione. Stavrebbero domande sposte. E' buona? No, Nezza, non lo metti. Di tra le orecchie. Russa, russa. Hai avuto un'intossicazione di sushi. Stai bene? Benissimo. Ma come vai sei russa russa? A tanto. Ma dove non stai molto bene? E continuo a mangiare. E continuo a mangiare. Oddio sto male. Ho perso. Ho vinto. Yeah, yeah, yeah. Battuta, pipellina. Non ho mangiato l'ultima ordinazione. Stavo morendo, l'ho mandata indietro. Perché altrimenti dovevo anche pagare, no? Sapete come funzionano gli ucherite? Ma sto pure cadendo. Cioè, mi ti giuro, mi viene da pubblicare. Ma ho mangiato così tanto, veramente tanto. E ho mangiato tantissimo. Tantissimo. Ma io vado cadendo, ok? E' pure bevuto, secondo me. Adesso devo fare la penitenza. Ragazzi, decidete nei commenti che penitenza devo fare. Che ho perso. Ciao. Vi mandiamo un bacio grande. Ci vediamo al prossimo video. Pensi, però secondo me un gelatino ci starebbe bene. Che ne pensi? Sushi basta, ma un gelatino o un dolcetto a cioccolato? Vi giuro. Tremenda. Guarda, un bel tortino dal cuore caldo. Che ne dici? Vabbè, mentre attraversiamo la nostra morte, mentre attraversiamo la strada. Qua cazzo c***o! Corro a questi stronti! Vabbè! Buonanotti! Viì! T Jaros. Me'sostro! Vabbè? Vabbè! Vabè! Vabbè! Vabbè! cza, ma mica! Grazie.